Presentato il bilancio delle attività svolte dai reparti del Comando regionale Puglia della Guardia di Finanza nel 2016. Attività che spaziano dalla prevenzione e repressione dei fenomeni evasivi al contrasto patrimoniale alla criminalità economica e organizzata, dalla lotta agli sprechi di risorse pubbliche all'antiriciclaggio, dalla lotta ai traffici illeciti al concorso nella salvaguardia della vita umana anche avvalendosi dei mezzi aerei e navali, Nella lotta ai fenomeni evasivi più gravi, alle frodi fiscali, alle illegalità nella pubblica amministrazione, agli sprechi di risorse e alla criminalità economico-finanziaria in genere, sono stati eseguiti 61.233 interventi. Le segnalazioni approfondite inerenti a possibili contesti di finanziamento del terrorismo sono state 28. Nell'azione di contrasto all'usura sono stati denunciati 43 soggetti di cui 12 tratti in arresto, 656 datori di lavoro sono risultati aver impiegato 1.363 lavoratori in nero e 637 lavoratori irregolari, oltre 37.000 interventi condotti nell'ambito del controllo economico del territorio, individuati appalti pubblici irregolari per 163,5 milioni di euro, con la denuncia di 330 soggetti di cui 11 arrestati, sequestrate oltre 21,8 tonnellate di droga, pari a quattro volte il quantitativo del 2015, a carico di 860 soggetti denunciati, di cui 255 arrestati. Eseguiti 1.650 interventi e denunciate all'autorità giudiziaria 1.114 persone per reati in tema di contraffazione. Nel settore del contrasto all'immigrazione clandestina, 77 soggetti sono stati tratti in arresto, raddoppiando il dato 2015, e 16 mezzi sono stati sequestrati perché utilizzati nell'illecito traffico. Nel corso del 2016, in occasione dell'emergenza rappresentata dall'aumento dei flussi migratori nel mar Mediterraneo centrale, le unità aeronavali del corpo sono state impegnate in operazioni di ricerca e soccorso, a salvaguardia della vita umana in mare, nell'ambito delle quali sono stati individuati e tratti in salvo 764 migranti.